Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV in questo 8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Iniziamo con la cronaca. Travolse e uccise Vanessa Bonatti il 29 aprile scorso davanti a casa è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Quanto ha stabilito il giudice del Tribunale di Arezzo, Claudio Lara, nei confronti dell'uomo che guidava l'auto che ha travolto e ucciso Vanessa, il conducente era sotto l'effetto dell'alcol. 90.000 euro, la cifra stabilita come risarcimento ai familiari della vittima. Dal momento a oggi il conducente del veicolo è rimasto sempre agli arresti domiciliari, misura che verrà applicata anche per il restante tempo della pena. E adesso due servizi che riguardano la questione israelo-palestinese. Ovviamente non ci arroghiamo il diritto di metterci in cattedra, ma semplicemente di rappresentare due voci che abbiamo raccolto. Partiamo da Youssef Salam, delegato per l'Italia della Mezzaluna Rossa palestinese, che è stato al centro di un incontro organizzato dalle ACLI. Spesso la retorica che c'è intorno non ci consente di capire veramente come stanno le cose. E il massacro che è in corso è una cosa impressionante. Impressionante che non deve solo far riflettere le popolazioni che vivono questo dramma, sia gli israeliani che i palestinesi, ma il mondo intero che da 70 anni non riesce a risolvere questo problema e a dare pace, stabilità e sicurezza ai due popoli che vivono quella terra. Una serata per indagare le origini del conflitto israelo-palestinese tra passato e presente. Israele e Palestina, le radici di un dramma. Questo è il titolo dell'incontro che è stato promosso dalle ACLI di Arezzo per conoscere e approfondire le dinamiche di un territorio che da metà del Novecento è caratterizzato da scontri, tensioni e rivendicazioni che sono recentemente sfociati in una nuova fase di guerra. In modo particolare in questi ultimi tempi la mezzaluma rossa palestinesi è stata nominata come coordinatrice di tutti gli aiuti a livello umanitario. E quindi tutti quei camion che vedete al valico di Rafà vengono gestiti all'interno della striscia di Gaza della mezzaluma rossa palestinesi che è equivalente alla vostra croce rossa. Innanzitutto voglio far ricordare che finora noi abbiamo perso quasi più di 62 fra medici e infermieri che soccorrono la gente sulle autoambulanze. Ormai a Gaza non esistono più autoambulanze perché sono state distrutte dal fuoco e dall'esercio israeliano. è una cosa che tutto il mondo dovrà condannare perché non si è mai visto che vengono distrutti, bombardati, distrutti ospedali, autoambulanze, così nessuno possa dire qualcosa. Se voi non avete mai parlato con un israeliano o sentivo un israeliano parlare, a me non mi dà mai del palestinesi, mi dà sempre dell'arabo. Quindi noi per loro non solo che veniamo, ogni diritto nostro viene violato, ma anche negano la nostra esistenza. Per loro noi non esistiamo. Golda Meir lo disse nel lontano 1969 che la Palestina e i palestinesi non sono mai esistiti. Però adesso, come avete visto, prendono Hamas come scusa per liquidare un popolo, per ammazzare un popolo. Hamas è un partito che rappresenta il 20-25% del popolo palestinesi, quindi ha una sua organizzazione militare, però ha un partito politico, certo che non rappresenta tutto il popolo palestinesi, però fa parte del popolo palestinesi, è impensabile liquidare Hamas, perché Hamas è un partito del 25%, quindi in più l'ultimo dramma al quale stiamo assistendo fa parte di un ciclo, un disco che si ripete, uno, due, tre anni scoppia, però questa è una questione che perdura da più di 75 anni, l'occupazione israeliana alla terra palestinesi. Purtroppo l'Occidente finora non ha dimostrato nessuna serietà nell'affrontare e risolvere la questione, perché non è per niente difficile risolvere la questione. Ci sono centinaia e centinaia delle risoluzioni delle Nazioni Unite, basta farle rispettare, accettarle e rispettarle. Quindi la volontà della comunità internazionale, la legalità internazionale, che Israele ha sempre violato e continua a respingere. L'appuntamento, che è stato ospitato all'auditorio Maldoducci di Arezzo e moderato dal giornalista Fulvio Scaglione, andrà in onda su Arezzo TV. E adesso invece al microfono di Alessandro Artini, ex dirigente scolastico, Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità Ebraica di Roma. Una lunga intervista che abbiamo raccolto e che andrà in onda nei prossimi giorni nel nostro palinzesto. Intanto ne sentiamo un breve estratto. Senta, io in questi giorni, glielo dico come uomo di scuola, anche se sono in pensione attualmente, però ho fatto il dirigente scolastico, in questi giorni sta girando nelle chat scolastiche, anche in quelle, soprattutto in quelle non ufficiali, una lettera di movimento degli studenti che invitano i dirigenti scolastici, i presidi, i docenti a prendere posizione contro questo massacro, anzi contro il genocidio che viene perpetrato ai danni dei palestinesi. Guardi, gliene leggo un pezzo. Così come, sì, allora, i palestinesi sono vittima di questo genocidio, così come la popolazione ebraica si è trovata braccata per secoli a casa propria ovunque essa fosse in giro per il mondo. Ma decontestualizzare sarebbe gravissimo, precisano. Non si può sicuramente identificare in Hamas tutta la popolazione palestinese, però è opportuno, insomma, che le scuole, i dirigenti scolastici, i docenti prendano posizione. Non le nascondo che a me, come ex dirigente scolastico, la cosa provoca qualche fastidio, perché io penso che la scuola, i dirigenti scolastici, i docenti non debbano prendere posizione, ma debbano seguire piuttosto la lezione deberiana, per cui si tratta di fornire agli alunni una situazione tale perché poi gli alunni maturino e lavorino autonomamente delle posizioni. Però questo è il mio modo di vedere le cose da uomo di scuola. Lei che cosa direbbe a questi alunni che invitano scuole, dirigenti, docenti a prendere posizioni? Allora, intanto vorrei fare riflettere su una cosa, a proposito del discorso che si è fatto prima. L'uso delle parole, la parola genocidio in questo caso è assolutamente fuori posto, non ha nessun riscontro con la realtà ed è uno dei meccanismi, quello dell'uso della parola, per cancellare il vero genocidio. E' un modo per ribaltare completamente la realtà. Quindi noi siamo di fronte a esagerazioni e falsificazioni propagandistiche, di cui la provenienza è chiara, una sorta di velina che gira e che viene riproposta in maniera assolutamente assolutamente così a critica che deriva fondamentalmente da una sistematica campagna di disinformazione. Che cosa io direi a un dirigente scolastico di spiegare e di dare le possibilità alle persone, agli studenti, di crescere e di valutare criticamente? Perché quello che va valutato, cioè la scuola dovrebbe portare a educare alla critica, a una coscienza critica, a un atteggiamento critico, non lo devo spiegare a lei che è stato dirigente scolastico, e quindi la prima cosa che va criticata è un documento del genere, cioè cosa c'è dietro, cosa l'ha ispirato, quali sono i problemi concettuali, da dove viene? Quando noi vediamo una fotografia, fa vedere una fotografia, la fotografia ha un impatto, ma poi uno dice guarda c'è il trucco, c'è quello, c'è quell'altro, bisogna educare le persone, se uno va a scuola non deve soltanto imparare le nozioni, deve maturare la sua coscienza critica, e è proprio su questo che bisogna, che bisogna assolutamente investire e lavorare, purtroppo è difficile farlo, poi ci sono le passioni, ci sono le tensioni. Niente sciopero, ma rimane aperto, lo stato di agitazione è proclamato dal Sulp di Arezzo per la polizia locale il prossimo 10 dicembre, l'intento della sigla sindacale era di aprire un tavolo costruttivo per arrivare ad una graduale risoluzione delle problematiche, con la delibera della Giunta Comunale di Arezzo, si legge dello scorso 7 dicembre, si è visto un primo riscontro positivo, che ci ha dato lo spunto per ritirare lo sciopero, avendo visto la concreta volontà dell'amministrazione a voler trovare delle soluzioni, rimane comunque aperto, lo stato di agitazione mantenendo alta l'attenzione sugli annosi problemi rimasti in sospeso e che ci aspettiamo saranno al centro della ripresa delle trattative nel mese di gennaio. Allora dicevamo oggi 8 dicembre, parte proprio da oggi il ponte dell'Immacolata, erano attesi tantissimi turisti in città e l'attesa non è stata, non è diciamo così, stata delusa. Una città letteralmente presa d'assalto, quella di Arezzo per questo ponte dell'Immacolata, lo avevano annunciato e così è stato. Sold out alle strutture ricettive, un fiume di auto, camper e pullman turistici che hanno raggiunto Arezzo. Migliaia di turisti che hanno scelto la nostra città per vivere la magia del Natale. Tra l'altro, proprio in queste ore, nel chiostro della biblioteca, si è inaugurata un'altra sezione della città del Natale dedicata agli artigiani. È un grande successo per noi artigiani di Arezzo, la città del Natale, e abbiamo trovato il nostro spazio dove esporre i nostri prodotti, sia alimentari che manifatturieri, che vengono offerti ai turisti che vengono a visitare la città, e non solo, anche a noi di Arezzo. Sì, la città del Natale è un evento meraviglioso per Arezzo, con Fartigianato c'è sempre stata, sin dalle primissime edizioni. Noi abbiamo scelto questa location, il chiostro della biblioteca, che è architettonicamente meraviglioso e accoglie non solo le imprese, ma anche i turisti. È un posto ormai diventato nostro, a tutti gli effetti, e cerchiamo tutti gli anni di valorizzarlo al meglio, sia con le nostre produzioni, sia con gli abbellimenti che riusciamo a fare. Di solito l'assessore dice sempre bene, però mi sembra che dai numeri che arrivano in città è incredibile, anche quest'anno. Si vede la faccia? Sì. No, molto bene, molto bene. È andata bene fin dall'inizio, sta andando bene fin dall'inizio, e oggi dovrebbe essere il clou della rassegna, questo weekend storicamente molto vivo, molto frequentato. Alle 10.15 stamattina c'erano già code in uscita al casello, quindi questo dimostra che la gente ne arriva tanta, ne è già arrivata tanta fin da ieri, perché gli alberghi sono sostanzialmente sold out oramai da una settimana, quindi una rassegna che sta andando molto bene. Abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi che comunque la rassegna di questo tipo comporta, credo che ci stiamo anche riuscendo, vediamo poi, i conti si fanno sempre alla fine, però insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, è un buongiornissimo. Oggi giorno anche per insomma tante famiglie in cui si addobba l'albero di Natale, albero che a quanto pare dal punto di vista della tradizione sarà più naturale che sintetico e che non poteva che provenire dall'alto casentino. Ogni anno dalla Casentino partono per tutta la penisola, ma non solo 500.000 alberi di Natale, soprattutto da un paese in particolare, Montemignaio, qui infatti da generazioni si coltivano abeti. Nel tempo siamo riusciti a far diventare Montemignaio un paese dell'albero di Natale, questo non a caso, perché da qui, da qui, in paesi limitrofi, partono tantissimi alberi di Natale per tutta Italia e anche per l'Europa. Vengono prodotti diversi tipi di alberi di Natale, qui vengono prodotti l'abete rosso mai tradizionale, il normandiano che è più un albero tipico del nord Europa e il costeriano che è più profumato e colorato che è più dell'Europa dell'est. Qui hanno trovato veramente un ambiente ideale per la crescita, per tutto. E come hai iniziato? Un po' per piacere, perché è una cosa veramente che per me è stata importantissima ritrovare, io lavoravo in città, sono ritornato al paese di origine che era Montemignaio e ho iniziato questa attività dove ho trovato tanta soddisfazione, tanto piacere e ho avuto modo di conoscere veramente un po' tutto, un mondo diverso da quello che normalmente siamo abituati a conoscere. Da quanti anni lo fa? Dal 1981. Avere contatti un po' con tante belle realtà, quali sono le grandi distribuzioni, i privati, gli enti pubblici, gli ospedali, cioè dove noi andiamo a mettere queste piante che dovrebbero abbellire e fare bello in Natale. Da qui infatti partono alberi per tutta la grande distribuzione italiana, ma si va anche all'estero. Sì, prima di eventi bellici eccetera, noi andavamo anche all'estero. Ora purtroppo ci sono un po' di guerre e ci hanno un po' limitato anche per il commercio estero. Però si va in tutta Italia? In tutta Italia, ovviamente, dalle Alpi veramente alla Sicilia, isole comprese, tutto, tutto, tutto. E parlando invece di presepi, partiamo da Sansepolcro, dove oggi è stata inaugurata una bellissima mostra. Nella terra di Piero della Francesca, la Valtiberina, al Via Sansepolcro, la mostra di arte presepiale organizzata dall'Accademia Eno Gastronomica è allestita in parte all'interno della Chiesa dei Servi di Maria e nell'edificio della ex scuola Pacioli. Sì, diciamo che abbiamo diviso un po' in due quello che è questa mostra. Di là c'è una collezione di presepi del mondo, di tutto il mondo che provengono, oltre a due grandi presepi che vale la pena per vederli, per la particolarità con cui essi sono stati costruiti. Siamo orgogliosi di questo e oltre a questo abbiamo allestito nella parte esterna un presepi semivivente, una parte statica e una parte vivente. Arrivata la sua quarta edizione, la mostra ha anche il significativo patrocinio dei comuni di Assisi e di Chiusi della Verna, località capolinea dei Cammini di Francesco, un progetto che sta prendendo sempre più campo in vista delle celebrazioni dell'Ottocentenario della morte del Santo, che cadrà nel 2026. Noi siamo molto sensibili, per quanto parliamo del Cammino di Francesco, Sansepolcro è il cuore di questo cammino e siamo onorati che i Chiusi della Verna e d'Assisi abbiano patrocinato la nostra manifestazione, ma non solamente con un patrocino simbolico, ma sono voluti essere presenti anche con il loro presepe. Questo è un messaggio chiaro che il lavoro che stiamo portando avanti anche nei Cammini di Francesco è quello giusto. Tutti i comuni della Valtiprina Toscana hanno aderito a questo progetto e anche loro sono presenti con il loro presepe. Mai come quest'anno il mondo associativo di Sansepolcro ha risposto così bene a questo evento e hanno voluto fare una cosa tangibile costruendo dei presepi manualmente pure loro per essere presenti in questo progetto che è sicuramente un valore aggiunto per la città di Sansepolcro ma per tutto il comprensorio della Valtiprina Toscana. Oltre a noi abbiamo a Sansepolcro il presepe di Glicignano, il presepe di Porta Romana che sono associazioni che da più tempo di noi portano avanti questa tradizione e che noi siamo orgogliosi che anche loro abbiano capito che fare di Sansepolcro la città del presepe sia un progetto culturale, storico, turistico molto importante. Sono tante le rappresentazioni della natività tra i presepi viventi e altre iniziative che sono disseminate nel nostro territorio. Sentiamo allora il servizio di Chiara Sadotti. Natale è sinonimo di presepi e sono tantissimi quelli sparsi in ogni angolo della provincia. Tra i più attesi senza dubbio lo storico presepe vivente delle ville di Monterchi che quest'anno dopo tre anni di assenza torna nella sua tradizionale location. Un intero borgo che lavora tutto l'anno per un allestimento monumentale che diventa spettacolo il 26 e il 30 dicembre l'1, il 6 e il 7 gennaio. Nel suggestivo borgo di Laterina poi la 25esima edizione della mostra concorso presepi. Per il 25esimo anniversario l'associazione presepi ha anche pensato di promuovere la mototerapia per bambini ed adulti con difficoltà grazie alla collaborazione con Freaseline Metti Moto il Natale. Torna anche la bellezza e la suggestione del presepe vivente di Castiglion Fiorentino. Martedì 26 dicembre sarà possibile seguire il percorso che si snota nel centro storico scoprendo gli angoli più belli e caratteristici in un'atmosfera magica che riporta indietro nel tempo con oltre 100 comparse. A Cortona torna invece il presepe vivente di Pietraia con un'anteprima della rappresentazione della natività nel cuore del centro storico cortonese per Natale di Stelle. Appuntamenti poi il 25 e il 26 dicembre l'1, il 6 e il 7 gennaio nel Borgo in un percorso di oltre 1000 metri con più di 100 figuranti. Domenica 17 e martedì 26 dicembre appuntamento invece con il presepe vivente nel Borgo di Oliveto dove tornano momenti di vita contadina e antichi mestieri presepi originali provenienti da tutto il mondo ospitati anche nell'atrio d'onore del palazzo della provincia di Arezzo. La natività infine sbarca anche sui social con la quarta edizione del concorso Un presepe al giorno lanciato dalle acli di Arezzo per premiare migliori presepi realizzati nelle case nelle scuole e nelle parrocchie. E sarà un Natale di eventi per la casa di riposo Fossombroni ad Arezzo le festività torneranno ad essere caratterizzate da un ricco programma di attività tra laboratori giochi incontri e uscite che scandiranno la quotidianità degli 80 ospiti dello storico istituto cittadino gli animatori hanno stilato un calendario con ben 26 diverse iniziative che condiviso poi con il consiglio di amministrazione farà affidamento anche sul coinvolgimento di numerose realtà locali un momento particolarmente atteso sarà alle 16.30 di venerdì 22 dicembre con la visita del Vescovo Andrea Migliavacca e allora parliamo della parte più commerciale del Natale perché insomma c'è anche quella parliamo di regali sono le stime soprattutto di spesa per questo Natale 2023 regalini piccoli magari non di grande ma comunque col cuore quindi credo che sia importante questo ma veramente per festeggiare un pochino il Natale 2023 dei Toscani sarà ricco di atmosfera regali e voglia di festeggiare ma tutto all'insegna del risparmio lo rivela un'indagine commissionata da Confcommercio Toscana Format Research qualche pensierino basta giusto il pensiero poi più si resta per i bimbi 8 italiani su 10 dunque vivranno le festività natalizie in modo parsimonioso limitando un po' gli acquisti rispetto all'anno precedente a frenarli sarà soprattutto il combinato di inflazione e aumento dei costi di prodotti e servizi mutui e bollette in testa pensierino sempre ovviamente poi a seconda di quello che è uno spende quello che può perché chiaramente siamo in una situazione non troppo allegra il 15,8% degli intervistati prevede di mantenere lo stesso standard di spesa del Natale 2022 mentre solo il 4% ha intenzione di aumentarlo a salvarsi in ogni caso sarà la voglia di fare regali li faranno certamente 3 toscani su 4 puntando soprattutto su specialità enogastronomiche prodotti per la cura della persona capi di abbigliamento libri e giocattoli nella top 10 anche carte regalo e buoni digitali soprattutto i bambini a mio figlio poiché altro di 2 anni cosa si regala? ancora non lo so vedremo vedremo all'ultimo minuto come sempre comprese le opere di beneficenza Parallici Senza Frontiere Save the Children Unicef il Serafico d'Assisi in prima linea poi il resto tra i canali di acquisto per i regali di Natale la distribuzione organizzata resta quello principale seguono i commerce e i negozi di vicinato ci sono poi Outlet e punti di vendita del commercio equosolidale io preferisco i negozi fisici online non mi piace comprare nei negozi fisici devo vedere devo controllare mi deve piacere e quindi preferisco così ed infine chiudiamo con lo sport l'Arezzo calcio femminile annuncia l'arrivo in Amaranto di Bea Parra e Marta Perarnau Parra attaccante spagnola classe 1987 in questo inizio di stagione ha collezionato nove presenze e due gol Marta Perarnau difensore invece spagnola classe 1995 entrambe si stanno già allenando con la squadra e saranno a disposizione di Mr. Mike per la partita di domenica a Brescia in occasione proprio dell'8 dicembre come ogni anno presso i locali della Polisportiva Policiano viene festeggiato l'atleta dell'anno all'interno della premiazione del 31esimo Grand Prix anche quest'anno l'Unione Polisportiva Policiano è riuscita a mettersi in mostra a livello nazionale grazie agli ottimi risultati ottenuti sia in campo tecnico individuale che di squadra in campo agonistico il risultato più importante è stato l'ottavo posto assoluto ai campionati italiani di società di corsa su strada per la prima volta una società retina appunto ha raggiunto questo traguardo e domani invece chiudiamo con questa notizia 9 dicembre al bocciodromo di via divisione Garibaldi ad Arezzo con il patrocinio del comune della regione toscana andrà in scena la prima edizione della Coppa Città di Arezzo un torneo triangolare tra le rappresentative femminili delle specialità Raffa di Emilia Romagna Umbria e Toscana all'arrivo delle delegazioni è previsto per le 9.30 la competizione prenderà il via intorno alle 10 poi le premiazioni alle 18.30 è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci A presto e Gio a presto Grazie a tutti.